In quel tempo il Signore disse Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Lei fa parte di qualche organizzazione clandestina, a scopo eversivo o terroristico? Sì. Ho fatto parte del corpo insegnanti. Ma non è un reato? A volte sì. Lei, a quanto risulta, è un uomo di scienza. Sa molto più di me. Già. Posso rivolgerle una domanda, signor Maresciallo? Prego. Quanti libri ha letto ultimamente? Ma, intimamente sono stato molto impegnato. Qui non c'è tempo per i libri. Ne avrà letti una decina. Ma quando lo trovi, in momento? In tutta la sua vita. Ne avrà letti una decina in tutta la sua vita. In tutta la vita? Credo di sì. Le sono bastati o ne sente la mancanza? Non ci ho mai fatto caso. Vuol dire che ha vissuto bene così. e sicuramente avrà belle cose da ricordare. Beh, nonostante tutto, non mi posso lamentare. Io, invece, se mi volto indietro, vedo solo pagine di libri. Una vita tutta di carta. Ma lei conosce molte cose più di me. Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico. Il film è Cento Chiodi. Il regista Ermanno Olmi è il mio preferito. Ogni suo film è un piccolo trattato di spiritualità. Questo appena ascoltato è il dialogo tra il professore e il comandante dei carabinieri. L'accusa al prof è quella di aver trafitto con i chiodi cento libri al pavimento della storica biblioteca universitaria. Perché lo ha fatto? Proviamo a capirlo insieme commentando il Vangelo di oggi. Gesù di fatto, oggi, inchioda non al pavimento ma al muro i dottori della legge. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. E anche qui ci domandiamo perché lo fa? Questa domanda si intreccia ad altri che mi scorrono nella mente. Chi sono questi dottori della legge che portano via le chiavi della conoscenza? Non dovrebbe essere l'esatto contrario. Non dovrebbero essere costori i maestri della conoscenza, quelli che introducono nella via della sapienza. Perché diventano invece impedimento ai discepoli e come mai neppure loro i maestri entrano nelle stanze della conoscenza? Certo che Gesù con queste frasi ti scombussola tutto ciò che è assodato. L'equazione è chiara, il maestro insegna, l'allievo impara. Eppure nel Vangelo non è così, come non lo è nel film. Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico, per questo il professore ribelle l'inchioda. Cosa manca a quei dottori della legge per essere maestri in grado di aprire le porte della conoscenza? Manca appunto la capacità di relazione, il saper perdere tempo con un amico al bar. Manca la dinamica affettiva, l'umanizzazione del pensiero, del logos, della mente. Quei maestri non sono cattivi maestri, ciò che insegnano è giusto, è la legge di Mosè, ma non sanno amare i fratelli, non sanno educare i discepoli, pertanto il loro insegnamento è vano e la legge diventa lettera morta, come dirà poi San Paolo. Ma non è così anche per tutti i libri del mondo? Dalla Divina Commie dei Promessi Sposi, se ad insegnarli sono professori senza passione educativa, senza il cuore del buon maestro, allora anche quei capolavori saranno lettera morta da crocifiggere per tantissimi alunni. Andate a chiedere ai ragazzi se sanno qualcosa di Don Abbondio, vi risponderanno è forse il prete della parrocchia? Così dicendo confermeranno due verità, una scuola incapace di insegnare e una parrocchia sconosciuta ai giovani. che si può stare Grazie a tutti.